Metaflex 14. In questo video andiamo a vedere come accelerare il metabolismo e il dimagrimento in soli 14 minuti. Se vuoi accelerare il tuo metabolismo e avere dei grossi risultati, non puoi allenarti troppo a lungo e devi fare degli allenamenti che comprendano principalmente tutti i gruppi muscolari. Per fare questo noi abbiamo il sistema Metaflex 7, 14, 30 e 60, principalmente. Il sistema Metaflex 7, te l'abbiamo mostrato in un altro video, si concentra principalmente su una o due gruppi muscolari, due zone muscolari. Il sistema Metaflex 14 invece ti permette di fare più lavoro e non è semplicemente un montare due Metaflex 7, ma proprio strutturare una metodica diversa di lavoro in genere che comprenda più o meno tutti i gruppi muscolari per 14 minuti di lavoro. Ora, la realtà dei fatti è che non è vero che è sempre 14 minuti. Orientativamente siamo attorno a quel tempo, però a volte esistono alcuni metodi del Metaflex 14 che non dipendendo strettamente dal tempo, per una persona più forte, più brava, più condizionata ed esperta potrebbe durare magari 11, 12, 13 minuti, per una persona meno brava, meno esperta e meno, diciamo, abituata a questo sistema potrebbe durare 18, 20 minuti. Ma il, diciamo, metodo Metaflex 14 fa capire che più o meno in 14 minuti di allenamento puoi strutturare una sessione di allenamento per accelerare tutto il corpo, tutto il metabolismo in modo efficace. E adesso andremo a vedere proprio una dimostrazione di come funziona il sistema 1 dei tantissimi pezzi del sistema Metaflex 14 e potrai replicarlo anche tu. Vediamo adesso l'applicazione pratica del sistema Metaflex 14. Ti facciamo vedere un modello molto semplice. Si chiama circuito a drag, cioè più round possibili. Io farò vedere, tramite Valerio, un circuito che dovrai replicare con un determinato numero di ripetizioni. E ci diamo un tempo limite, che sarà 14 minuti. Quindi puoi semplicemente mettere un cronometro nel tuo telefono, potrai farlo partire con un semplice cronometro o guardare l'orologio e renderti conto di 14 minuti, oppure metti su un'applicazione apposita un round da 14 minuti. Quindi fai partire e lui suonerà quando raggiungi i 14 minuti e hai finito il tuo allenamento. Il circuito consisterà in questo. Lavoreremo con tre gesti. Sono tutti a corpo libero. Semplicemente nel primo, che si chiama thruster, utilizzerai due bottiglie d'acqua. Potresti usare una bottiglietta da mezzo litro se il tuo livello è quello. Potresti usare quella da un litro, da un litro e mezzo, da due litri. O magari dei manubri, se sei molto brava, bravo e condizionato, e utilizzare dei manubri con il peso che vorrai tu. Quindi puoi modulare questo sistema e renderlo sempre più difficile. Allora, i tre gesti saranno questi. Lavoreremo come primo gesto sul thruster. È un esercizio che combina arti inferiori e arti superiori. Quindi vedrai che è un esercizio praticamente full body. Porti i manubri o le bottiglie d'acqua sulle spalle e farei uno squat e una spinta verso l'alto. E ne faremo 15. Nel secondo gesto, il jumping jacks, faremo 30 aperture sul piano frontale di tutto il corpo. Può essere a accelerare la frequenza cardiaca. Dopodiché faremo 40 mountain climber. Che è un esercizio di stabilità che allena il core, la zona addominale, i glutei, le cosce. Quindi alleneremo così tutto il corpo. Pertanto partiamo, facciamo vedere un giro completo. Poi ti dico quanto ci mette Valerio. E lo ripeterà per 14 minuti che ovviamente non ti faremo vedere in tutto il video. Quindi siamo pronti. Potrai farlo poi anche tu. Mi raccomando, prima di fare questo lavoro, comunque riscalda, ti fai bene gli esercizi di mobilità particolare. Innalza un attimo la frequenza cardiaca. Non partire subito a freddo con questo circuito. Quindi si parte. 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Questi sono 15. Si lavora così. Forza, forza. Dai che sono passati 20 secondi. Matte i 15. Si parte sul jumping jacks. Saranno 30 jumping jacks. Massima velocità, massima intensità. Ricorda la respirazione. Dai che ce la facciamo. Cominciamo a sudare, forza. Dai che in totale siamo a 45 secondi di lavoro. Quindi se mantiene questa massima intensità per tutti i 14 probabilmente lo ritroveremo a terra. Dai che adesso andiamo giù. Mountain climbing. Porto le gambe in maniera alternata. Saranno 40 in totale. Quindi 20 per gamba. Porto le ginocchia almeno avanti alla linea del vaccino. Se riesce ad arrivare prima addirittura a toccare il gomito, ancora meglio. In questo modo alternato, mantenendo un ritmo costante e continuo. Arriviamo a 40, quindi 20 per gamba. Per quanto siamo a forza, 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 fatto. Un minuto e trenta preciso di lavoro potrebbe continuare praticamente probabilmente per altri sette round, mantenendo questa intensità, forza anche un po' di più, anche no, in realtà. Pensa che lavorando in questo modo per nove round, sicuramente, già non sta benissimo dopo averne fatto uno solo. Quello che succederebbe dopo un nove round sarebbe un ottimo, ottimo consumo di grassi, di zuccheri muscolari e uno sviluppo di tutta la muscolatura corporea, grazie almeno al primo gesto al thruster che comunque già sviluppa la massa magra. Quindi questo è semplicemente un esempio, una dimostrazione di come funziona il sistema Metaflex 14. In soli 14 minuti sviluppare la tua muscolatura e accelerare il metabolismo. Ed ecco quindi come puoi sparare alle stelle il tuo metabolismo in praticamente 14 minuti. Sono sicuro che questo video ti è piaciuto e che non vedi l'ora di capire come poter strutturare un sistema Metaflex che ti faccia bruciare una quantità incredibile di grasso in pochissimo tempo. E puoi farlo cliccando il link che trovi qui sotto e ti spiega proprio come accedere all'interno del nostro club esclusivo Corpo da Sogno. Il club all'interno del quale trovi il sistema Metaflex strutturato passo passo per il tuo obiettivo.